La fabbrica entra nella scuola Il lavoro che si è trasferito all'interno della scuola O se si preferisce, la stessa frase si può dire anche all'inverso La sostanza non cambia La scuola ha portato dentro l'azienda Questo passo consiste soprattutto nell'aver trovato nell'istituto Bulzi E quindi nella scuola un'apertura mentale che rispecchiasse quelle che sono oggi le esigenze delle imprese E quello che i ragazzi troveranno domani nel mondo del lavoro L'incontro avviene al Bulzi in virtù del patto sancito nel giugno scorso tra l'istituto tecnico e Confartigianato Imprese Prato Una grande collaborazione dal mondo delle imprese, dal Confartigianato in particolare Per far conoscere ai ragazzi quello che sarà il loro futuro nel mondo del tessile La scena dell'incontro è il laboratorio di tessitura occupato dal nuovo telaio Jacquard Macchinario di ultima generazione, acquistato e messo in funzione con l'apporto di Confartigianato Imprese Prato Questa macchina rappresenta la forte innovazione che è stata data al settore del tessile e l'abbigliamento in moda Risponde pienamente alle esigenze dell'attività produttiva delle aziende del distretto pratese Rappresenta una tecnologia che è utilizzata all'85% del distretto Ben oltre la formazione scuola-lavoro, un moderno reparto di tessitura che si fa a scuola Formazione degli studenti al più alto livello Qui si fanno tutti i processi produttivi del mondo tessile E se il presente è il nuovo telaio Jacquard, il pensiero è già al futuro La macchina che vedete è uguale all'85% delle macchine nuove in stato nel distretto negli ultimi anni Per completare l'opera bisognerebbe affiancarla alla sua sorella, diciamo sia a Lici, a Quadri Diciamo si petezzuti piani e l'idea potrebbe essere quella di lanciare un crowdfunding fra tutte le aziende pratese Diciamo si petezzuti piani e l'idea potrebbe essere quella di lanciare un mondo tessile